Perché è uscito da solo dal falò? Dicevo, porco giuda, per una scorreggia non posso... Però avevo... Esatto, un'anima di guerriero paraggiuto che dovrebbe coprire le stese. Esatto, e anche alla grande direi. Ne avevo anche un'altra, ma... Così vediamo un po' cosa possiamo fare. Direi di, a questo punto, tornare umano, ravvivare sta fiamma così... Anche qui siamo tranquilli, segno di evocazione subito. Proprio, appena finito qua, lo evochiamo alla velocità della luce. E poi, a questo punto, saliamo di livello. Direi un altro livellino alla vitalità. Chi abbiamo qui? Clericamelea? Non so chi sia, ma credo... Se lo evoca subito, è un bot. Proprio, non sto neanche a pensarci. Scendiamo lungo questo serpentone di radicui. Qui dietro non c'è nulla. Occhio, dove stai andando, Cucureddu? Per favore. Questa cosa è quella luce rossa che vedevo? Oh, Soleil, finalmente! Abbiamo modo di incontrarci, fino al... Non ce n'era stata occasione, fino ad adesso. Prova a destra, ok. Questa lava mi spaventa alquanto. E finalmente Soleil ci raggiunge. Salve, cavaliere! Dove sta andando? Siamo qua. Prego, Soleil. Su! Si dia da fare. Che a sto giro mi sa che c'è neppure un altro di boss, vero? Perfetto. Vediamo che schifo sta per arrivare a... L'avevo detto io che era sospetto, quel vermone appeso là sopra. L'avevo detto io. Non ci credeva nessuno. Ecco qua. E mo so, cazzi. Io questo come lo dovrei... Come lo dovrei colpire dal momento che sono dentro alla... Dal momento che la lava io non la posso neanche toccare. Ditemi. Io vorrei capire come cacchio devo fare con questo io adesso. Bravissimo cucureggio. Il problema è che... E rimane uno solo. Come lo colpiamo? Bene, hai preso fuoco nelle maniere più introvabili. Soleil stai tipo bruciando. Non vorrei deluderti ma... Ehi, aspetta. Io ho le tregonerie. Non l'ho colpito neanche di striscio. Ma scusa un attimo. Soleil sta passeggiando... Ah, ecco. I danni da lava li sta prendendo Soleil. Il problema è che... Io vorrei capire come fare per attaccarlo io. Cioè... Mi tocca usare l'arco. Rimaniamo a dormire qui se lo attacco con l'arco. A meno che... Non proviamo le frecce avvelenate se cambia qualcosa. Questo non è bello. Non è assolutamente bello nella parte tua. Demone centipede. Oltre dove metti i piedi tu. Che tu sei pericolo... Uno salve è un anello. Che... Se non mi sbaglio... No vabbè. È un anello che potrebbe non aiutarci troppo. Nel frattempo Soleil si sta facendo... Masticare dal demone. Io ne approfitto. Drop meraviglioso. Soleil è morto. Il tuo sacrificio non sarà in vano. Kirke. Signor demone per cortesia venga qui. Perché io col cazzo che passo in mezzo alla lava. Se mi permette. Su. Signor demone. No eh. Non si vuole avvicinare. Ok no. Si sta avvicinando. Meno male. Ma Cucureddo porco Giuda. Aia. Adesso si che l'hai preso. Proprio dritto in faccia. Lascia perdere Cucureddo. Eh ma... Come ti devo colpire? Me lo spieghi? Demone del rifugio? Aia. Ma proprio aia. Mamma mia. Ma quanti demoni scassa cazzo dobbiamo trovare oggi? Rientriamo da umani. Speriamo di trovare qualcuno più utile di Soleil. Però aspetta. Mi ha dato un anello di cui ho già sentito parlare. Dov'è? Anello... Esatto. Riduce i danni da lava. Ok. Quindi... Se tanto mi da tanto, io adesso dovrei poter passare in mezzo alla lava. Quindi lo posso attaccare da vicino. Adesso vedrò di proteggerti Soleil. Nei limiti del possibile. Perché insomma... Tu non è che ti... Ti prodighi più di tanto per evitare di farti ammazzare. Se proprio dobbiamo dirla tutta. Andiamo Cavaliere Soleil. Verso nuove avventure. Pronti? Ok. Pensavo non ripartisse la cazzo. Ma neanche a paragone con prima. Però mi ha preso uguale sti imbecille. Oh vieni. Guarda come ti apro stavolta. Non mi apre prima lui. Che insomma... Eh... Mi sa che... Cambia proprio tutta la... Cambia proprio tutta la storia. Qui caro del mio coglionazzo. L'unica cosa è che... Aia. Non male che avevo lo scudo alzato. Eh... Mi sa che... Adesso cambia la situazione. Adesso le stai prendendo. Stronzetto. Adesso che mi posso avvicinare. Cambia proprio tutto. Eh... Eh... Sì. Cambia proprio tutto. Muorici. E vai a quel paese. Ciao Soleil. Grazie mille. Voglio salutarti. Vaffanculo. Ok. E anche questa è andata. Posso dire che... Questo anello ce lo dobbiamo tenere... Praticamente attaccato addosso a vita. Perché... Se tanto mi dà tanto... Qua sarà tutta lava. Fino alla fine, quindi. Eccoci qua. Proseguiamo nel nostro cammino illuminato. Dove cazzo dovevamo andare? Ah, ok. Non vedevo più la nebbia. Non sapevo più dove doveva andare. Ed eccoci qua. Vediamo dove ci ha portato la sfiga adesso. Perché ormai... Chi cacchio è quello? Oh, un falò. Subito la cosa più importante di tutte. Ah, è Soleil. Non l'avevo riconosciuto. Scusate. La arriviamo pure a questa. E saliamo di livello. Adesso diamo un altro livellino a forza. Così continuiamo a fare i grandi culi. Ciao Soleil. Che c'è? Ah, giusto. Sta ancora cercando il sole. Vabbè. Fai come vuoi. Ci vediamo. E proseguiamo nel... Nella terra della lava. Nella lava come lava. Battuta vecchia come il mondo. Che non mi sono sentito di riciclare. Di non... Anzi, di non riciclare. Ando cazzo, stiamo? Detto proprio... Col dialetto di Lordran. Oh, Lost Italic. Ok, adesso ho capito dove siamo. Ho capito che se non è zuppa fa un bagnato. Perché abbiamo evitato di andare dai quattro ore. Ma in un modo o nell'altro andiamo avanti con la storia lo stesso. Quindi... Qualcosa l'abbiamo portato a casa. Adesso dovrei... Il cuore du... Va bene che il danno da lava è diminuito dal 9.000%, ma questo non significa che devi morire carbonizzato lo stesso. Che dici? Ci stai prendendo gusto? Cazzo sei giù, cascatella? Ok. Altre anime. Mi sembra giusto. Questi... Cosi... Sti cosi non mi... Non mi fanno stare tranquillissimo. Non mi ricordo mai se è un mimico o meno. Io ogni volta devo controllare che non te sa mai. Anima di un grande eroe. Ti ho visto con la coda dell'occhio, muori. Pensavi anche di incularmi, vero? Apprezzo il pensiero, ma mi dispiace. Che schimale. Non l'ho visto muovendosi, mi son cagato in mano. No, no. È inutile. Credo voglia uccidermi. Sì, mi vuole uccidere. Ci sta per riuscire. Aspetta che scappo, va che è meglio. Via, 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 via. No, no, no. Anche voi no. Voi, eh vabbè. Fu così che cucure d'umori bruciato. Esatto. Perché non si faceva i cazzi suoi.